musica 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 cosa vuoi dire a me piace la pasta coscino vieni qua coscino vieni qua coscino guarda che cosa c'è per terra guarda cosa c'è eh si ma guarda lo zombie oh era un passerotto blu per terra ma dobbiamo fare la zappa canno allora eh io direi di andare un po' a zappare dai allora il primo pezzo stava qua quindi il primo pezzo sta lì ma facciamo proprio l'ister ego non si può più fare ah no l'ister ego è già fatto perchè noi siamo dopo l'ister ego ah ok c'è un pezzo di cose infatti avevo un attimo il dubbio aspetta guarda come si fanno i punti no no aspetta guarda ti insegno delle cose utilissime tu prima ripari tutte le barrile tranne una e quella che rimane cioè voglio dire spieghiamolo mamma ah come si scroccano punti e lo sai che tra l'altro mi ha dato l'obiettivo di usare l'hacker per la prima volta non l'avevo mai usato eh ma lo sai che neanche io l'avevo mai usato aspetta andiamo ci sono barriere moledetto lo sapete che se continui a riparare con l'hacker la barriera per più volte si ti scala proprio i punti ti scala lo so ma la fai riparare qualcuno a me vuol farla vedere ah e che cazzo ne so io no non andare lì che muori allora io direi di ritornare ma dai coscino ma che fa e coscino ma che fai mi tira le manate da 3 km dio santo fermo fermo qua allontanati bravissimo però c'è anche riga qua di merda si ma ha tirato le manate da 3 km porca puttana scuse tutti scuse io quasi quasi faccio un fatto ogni volta che osti tu porca puttana gli sbalzi al cuore quando devo giocare quanto sei? 120 ping cosci tranquillo io quasi quasi mi faccio teletrasportare dal tipo è una brutta idea secondo te? bruttissima che ti teletrasporta sei rosso non hai la tuta e quindi muori ah vero vero ok allora andiamo all'avventura la cupola? no io vuole andare a montare il pezzo della zappagan va a montare la zappagan ma l'altro dove sta? non lo so era l'unico pezzo che ho visto lo cerco ma non lo prendo esatto bravissimo grazie ho giocato solo una volta a questa mod diciamo giusto per vedere come era se era fattibile e anche per non spoilerarmi poco quindi devo fingere che non ti spoileri nulla in realtà tu ti spoileri sempre tutto ma è vero si che è vero che cazzo che non mi fa sta bugando molto bene aspetta forse perchè c'ho sto pezzo qua che è? che sta succedendo? non ti vedo ah forse dobbiamo trovare gli altri pezzi c'ho un pezzo del tubo degli easter egg che l'ho preso così random e ora mi fa parte scusa in teoria non ci dovrebbe mai non ci dovrebbe nemmeno essere visto che gli starei che mi sa che si no vabbè ma non l'hanno tolto perchè boh ah comunque faccio quella cosa delle barriere che qua c'è un po' vedere qua prendo io per ora l'altro pezzo della zappa che non l'ho trovato eh ma sarà probabilmente dentro la serra perchè era l'unico passo in culo vabbè e io volevo andare a prendere il jug sinceramente visto che c'ho un po' di punti eh ma io non ce l'ho eh lo so eh sennò poi dovremmo tornare dopo e c'è la schicola e una cazzo ce la faccio a farmela io non c'ho ma apri la sera che il punto più comodo dove stare si 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 pare che con 4.500 volendo puoi fare entrambe le cose no maledetto 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 ma maledetto ma maledetto ma perché sono maledetto ma 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 te l'hai trasportato dello stronzo eh ce la farò arrivare lì? eh no perchè te lo ritrovi davanti che tipo non si ti fa prendere un colpo poi non ci puoi neanche io si bye era qui al laboratorio era si carri carri ma fatela con la che era la cassa a sto punto eh ma nella serra dici no ma ora come ora era dalla piramide no? dove si attiva quella eh non c'è l'aria però lì eh ma tu fai fai la cassa si lo so come fare eh ce la fai vedi eh si si lo voglio eh essendo che lo zombie ce lo io ce la puoi fare l'unica cosa se ti arriva l'astronauta non so dove sta eh no sta ai laboratori per ora verrà verso di qua quindi top ok allora apro la serra così siamo tutti felici e contenti yeeeh volendo anche con l'hacker la potrei aprire però sono un riccone quindi è vero cazzo vorremmo aprire la con l'hacker siamo due coglioni che coglioni facciamo una cosa apriamo quella lì in fondo con l'hacker si quella che va al jug vai ci sto ci sto l'hackeri tu così intanto io cerco pezzi e faccio e sono morto di fame coi punti semmai io cerco pezzi e tu hacker 200 costa hackerare eh ho capito ma ne ho 600 sarebbe un terzo dei miei punti vabbè andiamo veloce allora hackerare vai io sto cercando sto cercando anch'io però se hanno messo il pezzo qua sono un po' stronzi perché è enorme cazzo eh ma ci sta che l'abbiano messo qua proprio perché è enorme a sal piacciono le cose enormi non è vero si si tu te bugie eh io mi sono è volato occhio che se cadi ok se cadi mentre voli mi sa che schia come si fanno un no no ma da che è? che succede? premuto x maledetto devo prendere l'hacker in mano troppo tempo che non gioco maledetto dai che furi di merda che stiamo facendo eh vabbè sti cazzi capiteci sono anni che non gioco a moon vabbè ripeto sti cazzi sti cazzi lui se ne frega eh vabbè io di pezzi non ho trovato nulla vado a vedere nel punto dove c'è il phd che mi sa di più pezzifero vediamo qua eccolo trovato 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 eccolo allora prendiamolo ok in teoria basta dovrebbero essere tutti in teoria facciamo una roba andiamo sulla luna io prendo il jug si ma no no sa non ci arrivo io a prenderlo perchè ti spiego ah no già che poi si si no ti cambia tu non lo puoi prendere ok appena tu c'hai il 2005 vai si si ma alla fine di questo qua ce la facciamo lo ammazzo? si io volevo quasi provare a montare la zappa però ma dai quante volte sei? tre volte ma dai senti ha rotto il cazzo con sto host di merda seriamente non riesco a giocare quando si tu te lo giuro ma se sei volato a parte ora che sono volato ma in generale comunque più di te le altre due morti non esistono lo garantisco non li senti perchè noi facciamo per chi non lo sa che quando registra sal host a sal quando registro io host io ma cristo quando sal fa l'host è una cosa obrobriosa porca puttana ti scusi ha 120 di ping che è quasi fattibile ti scusi sal vabbè lo so che c'è la connessione smerda non è colpa mia se non c'è neanche la 7 mega qua in sta zona dove sto io che se vada un metro più avanti c'è la fibra ottica non si sa perché con gli americani laggo di me no cazzo con john laggo di me ma eh un altro po' non insulti questi ma va bene questi insulti ah è un insulto alla tua connessione vederla sul personale un insulto comune io però c'è un piccolo particolare non munizione vabbè alto c'è solo c'ho solo le munizioni della dell'atlas grandissimo grande grande grazie vedi come si fa le chiedi e le arrivano chiedi e ti sarà dato aspetta che non ammazzate fermo un attimo mazzo il tizio lì che mi ha rotto i coglioni ok possiamo andare alla al banco la spesa arrivano arrivano arriva 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 ma siccome stanno spawnando un po' la cazzo di buddha non capisco quando finisce ah io c'erano due tu quanti? occhio a non prendere bombe io pure c'erano due spero uno lo sto ammazzando perché mi ha rotto i coglioni me l'ammazzo io pure ah comunque gli occhi blu hai visto eh c'erano più di due eh da moca te l'ho detto c'erano degli occhi inquietanti si si perché appunto dopo gli easter eggs diventano blux easter eggs? si si diventano blux anche su nuketowns dopo il 25 vabbè basta con la z ok credo che questo sia uno degli ultimi dai andiamo allora 3.800 3.500 però dobbiamo fare una specie di countdown per sbrigarci ad andare in teletrasporto che non abbiamo la tuta vedi eh ah è vero è vero vabbè ci riusciamo su ce la facciamo se uno dei due fail e non entra in teletrasporto è game over te lo dico intanto aspetta cerchiamo di eh ecco bravissimo com'è che devo fare il passo piano qua vai di lato vai di lato ah c'erano zobi cuscini no porca merda vai allora vieni 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 3 2 1 vai 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 l'uscissi non saltare non saltare che sennò te ne vai a far colpo no 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 vai io ci sono grande vai eccoci sulla terra è tutta disintegrata distrutta il disintegring non tacci su ancora si fa insultando lo zobbino è venuto un colpo in effetti eva mi ha ricordato la scena di di baioshock aperto aperto dove c'era un tizio che tutto un tratto mentre c'è tipo un filmato ti prende e ti gira e mi ricordo che mi sono cagato in mano in quella scena mi ha ricordato questa cosa si cosci io direi di andare si vabbè non peccatino infatti ho finito le munizioni ora me le vado a puntare no parli di altro punto prendiamo Equi3vive ehhh si dai quando uno è ricco si dai poi volevo fare pure una cassa mi prende l'avambraccio se mi appunto una zanzara a dicembre ah devo devo montare la zappa ok vai vai si vado a zappare comunque le concine dei perchè hai visto figo beh oddio ma dai non me la fa montare ah no perché forse c'è un'altra parte eh si dice allora abbiamo trovata una nella first room no che first room l'abbiamo trovata una vicino al daichiri un'altra ah vero l'altro ah forse ho trovato un pezzo si ho trovato l'ultimo pezzo si è la first room la first room e vedi che nel mio inconscio avevo ragione mamma mia lui in realtà l'ha fatta lui questa mappa voi non lo sapete lui fa le custom map non dice niente no ma è una moda non è la custom map e mi dice partere qui ma stai scherzando è vero anche a me allora ce ne sono un'altra allora probabilmente sarà nel tunnel quello lì laterale quante parti ci sono quattro ma può essere si in effetti sono era troppo facile o nel tunnel questo qua o in quello parallelo vabbè io direi di fare una cosa andiamo a eh ma cerchiamola prima nel tunnel sa secondo me sta qua si vai dire io volevo andarmi a fare una cassa col trucchetto vatti a fare una cassa io intanto mi che per il paese che per il paese